buongiorno 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 ben ritrovati a questa video analisi dedicata alle valute e anche il bitcoin bitcoin dove si stanno vedendo dei movimenti interessanti video analisi realizzata in collaborazione con il broker topfx di cui state vedendo adesso la home page il sito il link di questo sito lo trovate sotto nella descrizione del video e con topfx potete investire su indici titoli azionari italiani ed esteri valute materie prime etf bitcoin insomma un'offerta molto molto vasta ampia condizioni molto interessanti attraverso due piattaforme la meta trader 4 e la c trader le potete provare con un conto demo che non vi obbliga vi vincola l'apertura di un conto reale vi faccio vedere quella che la c trader eccola qua vedete questa è una delle tante dei tanti layout che si possono usare con grafici a chi nasce più grafici insieme insomma tanti 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 servizi potete fare trading direttamente da il grafico il sistema di missione ordine è fantastico e in più se cliccate qui sulla sinistra trovate quello che si chiama il copy trading ovvero la possibilità di replicare le operazioni dei traders che voi voi potete scegliere anche in questo caso inizialmente con un conto demo per poi partire con un conto reale filtrate qui avete dei parametri per filtrare ulteriormente i vari sistemi che vi appaiono se poi cliccate dentro vi trovate in questa pagina che è il fornitore di strategia che ci consiglia oggi costantino responsabile per l'italia di top fx che adesso vi faccio vedere anche il sito che ha realizzato lui si chiama dream ea dream expert advisor presumo che si intende vediamo la descrizione della strategia che trovate subito sotto comunque questa è la sua performance in percentuale in pips numero di copiatori da quanto tempo è presente da poco più di un mese dentro il copy trading qui trovate anche dei riferimenti vedo sia telegram che mai e facebook la sua equity complimenti qui le condizioni previste per seguirlo consiglia un minimo investimento vedete 1000 euro una performance fee solo se guadagnate il 30 per cento e queste sono anche condizioni che voi se vi proponete candidate come fornitore di strategie potete scegliere in autonomia sotto l'andamento mensile direi che ha cominciato molto bene un summary riepilogo della sua performance mi sposto un po così se lo potete vedere e poi altre statistiche relative al suo i trades quanti a rialzo a ribasso vincenti e perdenti gli strumenti gli asset su cui ha operato altre statistiche l'andamento dei copiatori vedete vi studiate per bene e se volete c'è sotto vi ho messo il link anche che rimanda a questo sito zen fx official proprio di costantino in cui ci sono quelli che sono i suoi test che sta portando avanti lui proprio in prima persona fa tanti video anche che aiutano come scegliere i vari sistemi attenzione a quelli che possono essere pericolosi che potrebbero insomma farvi incorrere delle perdite poi sono delle statistiche unite anche al sito myfxbook insomma fa dei report ogni settimana e quindi mettete che poi ci sono anche vedete dei tools gratuiti se vi registrate su questo sito che trovate sotto nella descrizione insieme al link per lo speciale fed di questa sera importantissimo per il mondo del dollaro e non solo per l'occasione insieme proprio a costantino i top fx abbiamo messo insieme questo evento si comincia alle 18 e 45 perché attenzione non è come solitamente alle 20 ma alle 19 il comunicato della fed 19 e 30 la conferenza stampa seguiremo tutto in diretta e con me a commentare a caldo sia le parole del comunicato le parole di paolo e comunicato della fed e la conferenza stampa dalle 19 e 30 ci saranno fabio michettoni salvatore scarano di volcharts e poi nicola para e paolo serafini ovviamente anche costantino che farà vedere anche qualcosa relativo al copy trading quindi oggi grande evento in diretta su youtube solo a chi richiede il link non è pubblico attenzione quindi vieni vieni lì metti nome email e te lo mando subito il link della diretta speciale di questa sera e vediamo come si sta preparando il dollaro per questa grande occasione questo grande evento si sta rafforzando cominciamo a vedere il dollaro index che è a rialzo questo è l'indice del dollaro contro le valute più importanti e soprattutto euro è a rialzo il grafico praticamente capovolto quello di euro usd con primo target eventualmente verso 1 18 e 45 una cinquantina di pips da dove ci troviamo adesso e occhio che politica più espansiva da parte qualche info che potrebbe dare in più la banca centrale questa sera potrebbe portare ad una svalutazione del dollaro mentre al contrario qualche riferimento qualcosa che non piace al mercato potremmo avere assistere alla reazione contraria però non c'è mai un causa effetto automatico con i mercati finanziari quindi però ne parleremo in diretta quindi lo commenteremo a caldo questa sera il meeting della fede quindi ti invito a partecipare poi ci saranno davvero personaggi importanti molto 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 esperti con tanta operatività in tempo reale dollaro alle prese invece con il franco svizzo abbiamo detto quindi euro sd giù euro scende sale il dollaro abbiamo un dollaro che invece è in difficoltà contro il franco svizzero in questo momento ha ribasso sotto questa zona di resistenza che ha fatto vedere prima 0 93 53 è un po stona questa situazione perché solitamente siamo abituati a vederli contrapposti cioè se l'euro dollaro scende dollaro chf sale ma vedremo vedremo se sono acquisti di moneta rifugio quale viene considerata il franco svizzero però l'altra moneta rifugio lo yen lo stanno continuando a vendere c'è da dire che venerdì grande appuntamento con la banca centrale del giappone sterlina dollaro laterale sopra questo supporto 138 36 attenzione qui ci vuole l'alert dov'è l'alert eccolo qui alert alert su questa candela rossa e kinashi che è stata confermata sull'australiano in corrispondenza della stessa resistenza da dove da qui aveva riportato audi usd il cambio verso 0 76 quindi da monitorare intanto stanno uscendo dei dati su housing starts 1 4 21 sotto quello che erano le attese e poi neozelandese altra commodity currency pure qui segni di cedimento anche perché c'è un petrolio che in questo momento rischia di finire sotto i 64 dollari usd cad al ancora ribasso per il momento si è adagiato su questo livello verso 1 24 e 50 infine il bitcoin sopra i 55 dollari ieri subito si sono visti gli effetti di quella inversione ai kinashi sulla resistenza sui massimi storici ha toccato ieri un minimo a 53 2 221 dollari oggi 54 138 comunque resta ancora l'impostazione al ribasso così come si può vedere su questo grafico e per il momento è tutto mi raccomando ti aspetto ti aspetto oggi alle 18 e 45 con lo speciale fed arrivederci grazie